Io sono nato pescatore, veniamo dalla famiglia di pescatori, forse un po' il mare lo conosciamo. Non era così per divertimento, era per necessità, perché attraverso la pesca noi come famiglia dove Angelo era il capitano ci siamo migliorati, abbiamo progredito e abbiamo cambiato il nostro stato sociale. Con il mosaico dei ricordi Dario Vassallo ci fa comprendere come è maturato in lui l'amore e il rispetto per il mare che da dieci anni manifesta anche attraverso i progetti della Fondazione Angelo Vassallo di cui è presidente. Ed è proprio questa sua sensibilità per l'ambiente che gli ha consentito di essere nominato dal ministro Sergio Costa presidente della Commissione Area Marina Protetta a costa degli Infreschi e della Masseta. Si tratta di una riserva che si estende tra Marina di Camerota e Scario nel comune di San Giovanni Appiro. La Commissione affianca l'ente parco nella gestione dell'area marina e soprattutto un organo di controllo ma anche propositivo. Soddisfatto della scelta il presidente dell'ente parco, Tommaso Pellegrino, sono sicuro che saprà fornirci delle buone idee per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. Non potrebbe essere altrimenti, aggiunge, se si considera che è un uomo del Cilento. Dario Vassallo, medico dermatologo, è nato a Pollica e vive a Roma da 40 anni. Da 10 gira l'Italia per raccontare l'opera del fratello Angelo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre del 2010 in un agguato. Da ex pescatore Dario non farà mancare l'attenzione nei confronti di chi lavora nell'area marina protetta. Anche se la nomina è arrivata ieri, noi già ci stiamo lavorando da più di un mese, abbiamo le idee ben chiare su quello che vogliamo fare. Il posto principale in questo progetto sarà svolto da chi lavora sulla costa, quindi dai barcaioli e dai pescatori, perché loro dovranno capire che sono le prime sentinelle e i personaggi più importanti di quest'area marina protetta che può essere il volano per tutto un territorio. L'incarico che il ministro ha affidato a Vassallo non sarà rimunerato ed ha una durata di 4 anni.